Buongiorno a tutti, allora questo libro che ho scritto si intitola appunto Un bacio dietro al ginocchio. Se dovessi dire in poche parole di cosa parla, direi che questo libro parla di un distacco tra madre e figlia, un distacco che avviene in modo inaspettato, in modo anche traumatico, imprevedibile, perché questa figlia, questa ragazza che si chiama Elisa, dopo aver compiuto un gesto distruttivo nei confronti della madre, la chiude in bagno e dopo averla chiusa in bagno, apre le manopole del gas della cucina di casa e se ne va, se ne va, intraprende un viaggio senza dare notizie di sé, non darà notizie di sé per un periodo di circa un mese. Quindi avviene qualcosa di apparentemente inspiegabile per questa madre. Le protagoniste sono due donne che si trovano in un momento particolare della loro vita, perché la madre Ada è intorno ai 50 anni e quindi si trova in un'età in cui si comincia a fare un bilancio della propria vita, di quelli che sono stati gli anni passati. Elisa ha poco più di 20 anni, quindi si trova in un'età in cui si deve andare nel mondo, si deve scoprire, si deve sperimentare, si deve lasciare il nido e però queste due donne sono entrambe smarrite. Ada è una donna ancora profondamente irrisolta, è una madre che detesta a sua volta la propria madre ed è una donna che non riesce ad accompagnare la figlia nella vita adulta. Elisa è una figlia smarrita che avrebbe bisogno di specchiarsi negli occhi di un adulto. L'unico adulto che si ritrova vicina in questo momento particolare della sua vita è questa madre inadeguata che non riesce ad accompagnarla. che cosa ho cercato di fare in questo libro? Io ho cercato soprattutto di mostrare, di dare molti dettagli senza spiegare fino in fondo. Può essere che questo lasci talvolta insoddisfatto il lettore. Io però credo che mostrare degli elementi possa servire a far ragionare. Ci sono tanti elementi che rimangono che rimangono come in sospeso. L'intento maggiore che avevo era quello di fare un po' a pezzi l'amore materno. Questa figura della madre che è una figura molto retorica nel nostro immaginario. L'amore materno è qualcosa che dovrebbe sempre abbracciare e portare consolazione. Nella realtà non è così. Noi sperimentiamo cose molto diverse. Dietro l'amore materno si può nascondere anche violenza e sopraffazione e Ada in fondo dietro questa apparente mitezza, dietro questo apparente andare incontro alla figlia cerca in realtà di dominarla in qualche modo perché Elisa è una ragazza che ha bisogno di andare verso la parte vera di sé, di aderire alla parte vera di sé e la madre in fondo cerca di ritardare questo momento. La spinge a studiare anche quando lei non ne ha voglia, quando non ce la fa più, le dice dai forza fai un ultimo sforzo, sei quasi arrivata alla fine di questo percorso universitario e in realtà Elisa è stanca, sta andando in pezzi, non ce la fa più, non ne può più di studiare e quindi c'è questo cortocircuito, questa incapacità di comunicare tra queste due donne ed è stato soprattutto questo che io ho cercato di mettere in luce tra queste due donne e spero che il lettore possa cogliere tutto questo. Grazie. 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 Grazie.